e bello tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video nuovo taglio di capelli intanto me li sono un po accorciati oggi siamo con un telefono non del solito però questo è il mio lì c'è quello di mia madre oggi giocheremo un po a stumble guys perché allora è dato un sacco che non pubblico in tema proprio un sacco dobbiamo stabilire un giorno io direi ragazzi di un giorno a due giorni alla settimana anzi tre giorni alla settimana e allora io vi dico uno spoiler che domani no domani domani 15 il 17 vedrete sul canale la reazione di mia mamma alla pagella del primo quadrimestre vedremo la pagella comunque non ci saranno credo insufficienze non credo comunque vedrete la reazione di mia mamma ovviamente conoscete mia mamma l'avete vista alle gru l'avete vista in altri posti e oggi giocheremo un po salmo guys per pre tutti i video allora oggi assegniamocelo magari da qui me lo segno thomas del futuro ti dico farò video tre volte alla settimana lunedì mercoledì e sabato ok lunedì mercoledì e sabato però me lo devo segnare qua perfetto eh lo devo segnare perché sono quindi ragazzi lunedì mercoledì e sabato lunedì mercoledì e sabato adesso sento sentito la musichetta 4 16 ok quindi lunedì mercoledì e sabato alle ore 16 vedrete un video allora intanto adesso vi apparirà la visuale via e allora eccoci qua e io direi di andare intanto a farci due giri un po che non ci vanno male a nessuno ho la ruota super fortunata voglio vedere quanto è fortunata sta ruota oddio forse una skin e la trovo ah rara oh allora mi mancava e adesso che magari ci porta fortuna utilizziamo anche l'alieno adesso magari ci porta fortuna sto alieno magari ci fa vincere ok e adesso andiamo a farci anche ancora un po di giri perché oddio ah no pensavo che era gratis ok facciamoci un altro giro vediamo cosa troviamo oh se siamo a 150 gemme credo che la mia vita non basti per finire 5 gemme è un po schifo però ne abbiamo un'altra se non mi sbaglio comunque ragazzi se volete anche i video con mio fratello lorenzo a summer guys perché non ci vanno oddio che spaventa ragazzi ragazzi stavo per prendere 150 gemme ok adesso è arrivato il momento ragazzi facciamo torneo cioè facciamo block dash leggendario block dash leggendario partecipa 20 gemme ok ragazzi oggi faremo torneo torneo quindi il titolo di questo video facciamo un torneo su stumble guys ci sta comunque io non ho un nome perché per per fare il nome servono delle gemme che io non ho dovrei trovare tipo 150 gemme sulla ruota ma non cosa molto improbabile ah vediamo che mappa scioglio comunque ragazzi anche stumble guys è cambiato io mi ricordo i tempi in cui giocavo a stumble guys e mi diverto un sacco i tempi sono cambiati anche perché sono cambiate le nuove mappe cioè sono uscite le nuove mappe di solito credo che mi usciva quella una cosa che finiva una mappa che finiva con roll non mi ricordo comunque adesso c'è block dash vabbè block dash c'era già però allora è iniziato intanto il torneo mi spingono da già senti questa musichetta quanti tempi cioè se ripenso a tutti quei tempi ragazzi cioè ma veramente ma quanto tempo è che non gioco a stumble guys in quei tempi tantissimo comunque ragazzi io non ho mai praticamente giocato un torneo però comunque sono bravo a giocare oddio mi lagga e ragazzi mi ha laggato vi ho censurato il messaggio perché comunque ho perso ma aspettate ho perso ma ho una cosa nel post battaglia vabbè 15 di questo non me ne imposto cioè per uno non prendevo la skill comunque ragazzi facciamo ballo questa roba anzi no ragazzi facciamo una partita classica che magari ci escono anche le vecchie mappe le vecchie mappe in cui giocavamo sempre cioè lasciate un like se giocavate a stumble guys perché io ci giocavo ragazzi un sacchissimo cioè la mia vita è un cioè tutto il giorno 24 su 24 giocavo a stumble guys oddio che ricordi questa dai almeno mi è uscita una vecchia comunque Umbles Humble la odiavo ma adesso la amo perché mi ricordo tante cose ma è perché sono primo io mi ricordo quanto era bella la sensazione quando eri primo è bellissima ancora adesso è bellissima quando sei primo quando ragazzi quando facevamo i trick ovviamente io sono un forse che trick ragazzi io mi ricordo a memoria i trick io li adoro i trick questi qua tipo che ricordi ragazzi dovete lasciare un like se ci giocavate pure voi ma tanto lo so che ci giocavate e non lascerete lasciate like ok vediamo chi è morto questa qua non sentite poi l'audio ma vi sto mettendo starete sentendo la musichetta che vi metto io nell'editing successivo eh no questa già non è una mappa non mi piace anche perché vuoi vedere le bombe che mi buttano giù tipo quella delle bombe che ti buttano giù comunque non fa il caso fa schifo fa schifo non so perché non mi fa schifo sta napa se devo dire la verità mi fa proprio schifo oddio aspettate che abbraccio questo ah ti abbraccio ma che sono felice oddio io sono l'unico che l'ha abbandonato e sono anche morto comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto il prossimo video uscirà facciamo sabato sabato alle 4 uscirà il video della pagina quindi spero che il video vi sia piaciuto e ciao ciao